I cittadini siano sollevati dalle tasse e dai balzelli che li facciamo sopparcare, anche in Lombardia, perché io lavoro in Lombardia, c'è un'azienda in Lombardia, non ho mai avuto una lira di sconto, anzi c'avevo la legge Sabatini e me l'hanno anche tolta, quindi al di là di quello che dice la Terzi, la mia azienda che è in Lombardia non sa neanche che cosa sono. Terrà il referendum della Lombardia per fare in modo che la Lombardia trattenga sul territorio le sue tasse, così lo sconto lo facciamo anche a lei, oltre al fatto che voterà, così come già in passato la Lega aveva dato la possibilità di fare i cittadini, per una netta diminuzione del numero dei parlamentari, partendo dalla sua poltrona, perché tanto lei è una voce da già, sento queste cose qua, quindi non è che sono molto soddisfatto. E invece io sento solo quello che ha fatto il governo Montice al suo governo.